che facciamo stasera stasera io non avevo niente da fare domani riparto per l'italia e quindi andiamo a vedere i mani siamo al concerto dei manneskin in italia non piacciono le cose come dicevi te nessuna proprietà in patria tre date sold out a tokyo assolutamente e o facciamo questo appunto importate ce l'ho portato io tommaso qui noi siamo guest perché siamo guest noi grazie a rondo che ha le mani in pasta ovunque noi siamo guest eccoci qua siamo dentro andiamo ecco lì sì non ho capito dove siamo allora ci guardiamo allora questo bietro è da 18.000 18.000 yen quanto costano i manneskin 18.000 yen ecco io vengo a vederli e vengo a vederli qua e ho comprato il bietro da 50.000 yen per il gold ticket a tokyo siamo davanti al palco qui fila 6 del blocco del blocco 3 però siamo arrivati al posto siamo praticamente davanti al palco sì sì ma tra l'altro visione ottima perché non troppo vicino però bello cazzate eccolo qua che bene si sta anche seduti che tanto in giappone si alza mai nessuno però forse si dai un pochino dai arriate arena molto bene ma chi ci ha fatto venire qua beh noi ringraziamo vivo concerti assolutamente la persona di andrea che ci ha fatto venire qui grazie infinite adesso parte tra po vediamo come dicevi sono precise alle sei e mezzo alle sei come alle sei sono giapponesi in giappone fa il giapponese tra 8 minuti devono iniziare è finito è finito facciamo il commento poi è una bottiglia di vino brutto da fox però attenzione perché abbiamo i bicchieri di vetro qui a differenza di sezeria che c'è il numero di plastica come è stato questo concerto insomma a me è piaciuto anche a me è piaciuto molto abbiamo trovato dei difetti quindi se mareskin ci sentite qui mancano i cori i cori e ammette di cinzono guitarrista prossimo e solidarista va anche bene così però i cori mancano però a tutti adesso ci roma un attimo così a tutti li cose i rosiconi che dicono le mannes che andate a vederli perché effettivamente sono forti due ore di concerto che comunque per una band nuova relativamente nuova non sono pochi ho tenuto benissimo mamma mia questo vino non lo ho ancora sentito aspetta bello fresco si sente tutta la francia band sopravvalutata e tutto quanto vabbè fatele voi 10 mila persone anche più al alla riachia arena con tre sold out di fila sono bravi sono bravi sono proprio bravi si può voler fare è un grande rock alla fine va bene grazie ancora al managgimento di vivo concerti grazie a tutti i biglietti rondo che mi ha detto da andarci e ora noi andiamo a mangiare qua ecco qua da questo questo ristorante che ha i buffet di insalata mangia quanto vuoi e la zucca e il vino brutto al prossimo video ciao ciao